Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Torniamo a parlare di Ria Pallanuoto ma questa volta non per meriti sportivi. Una situazione spiacevole sta infatti coinvolgendo i ragazzi della squadra costretti a portare avanti l'attività sportiva senza una sede sociale. La squadra che conta circa 60 atleti tra giovanili e master attualmente ha sede presso l'abitazione del presidente. Una situazione che stando a quanto ci ha spiegato proprio il presidente Marco Zucchi è stata segnalata al sindaco di Voghera già nel settembre del 2014 attraverso una lettera in cui la squadra chiedeva di poter visionare la struttura situata all'interno del piazzale antistante la piscina comunale dove la squadra gioca e si allena. Uno stabile di proprietà comunale in disuso che un tempo veniva gestito dal signor Scovenna, oggi deceduto. Dopo qualche mese di silenzio nel gennaio di quest'anno il sindaco avrebbe ricevuto i ragazzi nel proprio ufficio. Barbieri avrebbe paventato l'ipotesi di ospitare nello stabile diverse associazioni compresa il Ria Pallanuoto per poi fissare un appuntamento per il giovedì successivo per visionare l'immobile sopra il luogo che non sarebbe mai avvenuto. Il presidente della squadra Marco Zucchi ci ha spiegato che ad aprile 2015, poche settimane prima delle amministrative comunali, il primo cittadino ricontatta gli atleti e propone loro una sistemazione provvisoria. Un ufficio sicuramente molto bello ma del tutto lontano dalle necessità dell'associazione essendo privo di recapito postale oltre che di un accesso indipendente e situato a circa un chilometro dall'impianto notatorio. Il Ria Pallanuoto è quindi costretta a declinare l'invito. A giugno 2015 i ragazzi ci riprovano, protocollano la richiesta di poter visionare l'ex biglietteria dello stadio comunale di Voghera di dimensioni contenute ma per posizione e tipologia l'ideale per l'associazione ma anche in questo caso da Palazzo Gunella tutto tace. Una condizione sempre più difficile da gestire, a diri a Pallanuoto una vera eccellenza sportiva vogherese serve una sede sociale che diventi un punto di riferimento per i genitori ed incontro per i soci. Serve uno spazio apposito dove poter custodire documenti e materiale sportivo come tute e porte da Pallanuoto attualmente accantonate in un angolo della piscina comunale. Per questo tutto il team si appella al sindaco di Voghera Carlo Barbieri e all'assessore allo sport Gianfranco Geremondia affinché prendano in considerazione la loro richiesta nel più breve tempo possibile. Concedere a diri a Pallanuoto l'ex covenna o l'ex biglietteria di Stato servirebbe anche a ridare vita a strutture che sicuramente un tempo furono pensate per far parte di un grande impianto sportivo ma che oggi appaiono come un doloroso insieme di edifici decadenti.